Buonasera e benvenuti. Ben arrivati, benvenuti. Buonasera, buonasera, buonasera. Ciao, bentrovato. Allora, trofeo di categoria, quale miglior film italiano? Insomma, mi pare una bella soddisfazione. Salerno è sempre stato per me il festival più importante. Mi sono venuto quattro anni fa la prima volta con il mio primo film. Io capisco i ragazzi che prima hanno detto che siamo senza budget, ho fatto il fonico, ho fatto ok, ho fatto il fonico, ho costumista, tutto quello che c'era da fare. Però il cinema, poi se si ama, si va incontro a tutto. Io, proprio oggi finivamo l'anno scorso di girare il film, il 3 di dicembre, quindi è un anno che abbiamo finito. Però non voglio raccontarvi del film, porto soltanto via 30 secondi perché 13 mesi fa siamo andati nell'azienda di questa signora e della sua famiglia, la famiglia Borello di Torino, andando a dire al suo marito che eravamo 18 mesi, che noi lavoratori dello spettacolo non lavoravamo. Eravamo 18 mesi, ha fatturato zero, avevamo due dipendenti e i due dipendenti erano rimasti due dipendenti, non avevamo macchina, non avevamo più niente, ma i due dipendenti erano rimasti lì perché fanno parte della nostra famiglia. Allora ho detto al suo marito, vorremmo fare un film, si parla di sogni, si parla del cinema e avremo bisogno di un aiuto. E allora suo marito mi disse quanto serve per fare il film, quello che ci dà, abbiamo zero fatturato, no no, quello che serve io vi darò perché voi dovete tornare a lavorare, dovete tornare a fare il vostro mestiere. E una settimana dopo 38 persone lavoranti nel mondo dello spettacolo tornarono a lavorare grazie a questa famiglia. Se c'è un premio, dattero a loro che credono nel cinema e che è la cosa più bella per noi, sono loro che ci danno il film. E' una storia bellissima che consiglio ai tanti presenti in sala operatori dello spettacolo. Da qui può nascere un bellissimo film. Che racconti. Allora vogliamo consegnare questo premio? Trofeo di categoria, quale miglior film italiano ha? Stessi battiti. Quindi, prego, prego, per la foto. Andiamo davanti ai nostri fotografi. Siamo giunti. Siamo giunti al gran trofeo di... Questa bella storia. Eh, questa è meravigliosa. Questa è meravigliosa. Bellezza. È una bella chiusa. È una bella chiusa. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie.